Ciao, mi chiamo Marco e sono uno studente dell'Università di Pisa. Il libro che leggo in questo periodo è quello di Harry Potter. Leggo questo libro perché è molto appassionante, affascinante. I temi principali del libro sono la magia, la scuola, l'amicizia. È una storia molto intrigante, leggibile in ogni suo rigo. Auguro a tutti di leggerlo. Un bacio, Marco.